vorrei provare una cosa voglio incominciare ogni singolo video di questa serie così perché nella mia prima serie io non sapevo fare ancora le copertine e quindi quello che facevo era cercare di mettere come copertina il principe rivolto verso la telecamera cercavo perché le immagini te le dà ancora youtube però stavo cercando di mettere se riuscivo a trovare l'immagine col principe rivolto verso la telecamera lo mettevo altrimenti ma penso sia stato tutto così tranne un paio di video allora probabilmente adesso andremo alla ricerca delle armi quando questa icona appare sullo schermo premi q per la visuale panoramica ok con la visuale panoramica possiamo muoverci io aspetterei perché ci sono un paio di guardie noi siamo lì in basso a sinistra e così possiamo studiarci i movimenti comunque si possiamo muoverci però per il momento è scomodo allora da qui sono arrivato da qui sono arrivato già non mi ricordo niente c'ho memoria di un pesce rosso allora altre guardie tra l'altro secondo me steam quando ha rilasciato questo gioco ha fatto qualche modifica però voglio fare una piccola modifica anche io un momento solo ok ho fatto una piccola modifica grafica perché mi sembrava un po troppo qualcosa che non andava ho aumentato la risoluzione nel caso vedrò in video che cosa cosa succede allora posso andare avanti qui ci sono altre guardie qui invece sembra esserci un manichino più che una guardia ma perché non mi capita mai di avere a disposizione una lama decente nei momenti difficili beh meglio di niente quanto è vero però nel 2 c'era addirittura un bastone all'inizio mentre lo schermo è distorto premi e per eseguire un assassino rapido tac però peccato era più bello il 2 in queste cose quando l'icona ok q e c'è un'altra guardia in basso se questo gioco si fosse chiamato assassin's creed probabilmente di sarei dovuto piombare addosso non ho più voce non so parlare eccola qua ah si mette proprio lui in modo in modalità ok non posso raccogliere le armi vero sì che posso ecco stai bene aggrappato servirà qualcosa io mi devo controllare perché se perdo qualche potenziamento è la fine no se corro lì torno indietro io sono arrivato qui e l'unica cosa che mi fa pensare che posso fare è correre sul muro e invece no oioioi allora sono tornato qui provo a vedere se andando avanti sono un imbecille perché io di qui posso salire rantighino allora potrà saltare e qui vediamo chissà se ci sono i bozzetti non ho letto allora al limite se ci sgama combattiamo tranquillamente ok vediamo un po' un po' un po' lento nei movimenti però è molto più preciso ok però non lo taglia a metà porco giuda le cose sono distruttibili ma al momento non danno nulla posso posso non ho più l'arma ops scendiamo e qui c'è un altro eh vabbè combattiamo perché tanto ci sarà da combattere un bel po' tec cioè hanno proprio levato l'animazione cioè non la minimazione il corpo che si taglia a metà intanto c'è un riquadro qui che non riesco a capire se è un riflesso che ho io oh oh windows 10 non farmi scherzi secondo me è troppo presto per cercare un ehm un potenzialmente premi premi senza rilasciare pm2 per correre sul muro e premi barra sfezzatrice per saltare ok ah ok la c'è potrò risalire spero di sì intanto così riprendiamo vita come sempre ok mancato c'è questa texture fastidiosa che non so se la vedo solo io ehm una cacchio salta principe sei un principe cosa sono questi versi poco eterosessuali immobili mobile a destra per guardare in alto si ok ci siamo vi hanno bombardato eccola a c'è no ah in città non si entra dovrò scalare questa torre da assedio e passare dall'alto Ah, giusto, in questo titolo ci sarà anche un vecchio ritorno. Ok, devo passare attorno. Qui non si aprirà giustamente. Oh, caspio, non li ho visti proprio. Neh, maestria. Poi quando sarò un pochettino più bravo cercherò di fare anche qualche combo diversa. Tanto non mi ricordo più come si lancia. Ecco fatto, ok. Dammi questa. Vedi, nel 2 ti faceva vedere anche che l'arma si usurava. Adesso, vabbè, non l'ho usata, quindi... Povero gioco, ha ragione anche lui. Ok, siamo qui. Niente, saliamo le scale. Riesco a percepire che è passato in questo posto per fare del male alla mia famiglia. Ah, sì? Riesco. Dovrei camminare... Ok. Eh, vabbè, povero principe. Andiamo qui. No. No, questa roba del... Eh! Perché io muovo, voglio vedere qui, ma la visuale torna dov'era. Ah, questi uccellacci. Ho passato un mese in mare e ogni giorno sognavo il mio ritorno a Babilonia. Ma mai, nelle mie visioni del futuro, avrei creduto a un ritorno del genere. Guerra. L'unica spiegazione. Ma guerra con chi? E perché? F per la visuale in prima persona. Ecco qua. La torre di Babele. Il nostro regno. Guerra. Andiamo giù. No. Però qui. Un'arciere. Vediamo se è possibile... No, facciamo così. Facciamo così che è meglio. Neeeh. Neeeh. Oh. Però tu non possedi nulla. Mi posso servire, quindi... Imo. Sappiamo che ci sono gli arcieri, però. E qui inizia un po' di stealth. Ah, se premiamo nel... Ce lo dice adesso. Se premiamo troppo presto... Attenzione perché... Quello è scuola fara, eh. In realtà è nostro amico... Ma ci entrerà sempre noi. Perlomeno hanno sistemato i bug dove... Se ti arrampichi contro il muro e devi attaccare il nemico non... Non succedono minchiate. Che idiota, guarda qui. Questa roba si rompe. No, non romper le scale. Ok. Prossimo salvataggio. Devi sapere che non era l'amore a guidarlo... Ma il dovere. Io ero una sua responsabilità. Aveva fatto una promessa. Una promessa che ora era infranta e violata. Come per tutti i suoi altri errori... Il principe voleva rimediare. Un nobile intento, certo. Ma anche un atto di egoismo. Perché voleva calmare il suo dolore. Allora. E niente. Il principe c'ha questi momenti di... Vai verso la sporgenza. Tec. Ah, stanno... Se la stanno prendendo con gli noce... Mazza che botte. Parca troia. Parca giuda. No, ti devi arrampicare. Ok. Travia, non finire. Muovi la tenata a sinistra per camminare sul... Va bene, va bene. Va bene. Ok. Ci sono. Conosco le strade. O almeno le conoscevo. Devo stare dietro a Kailina se voglio scoprire il responsabile di tutto questo. Scusate se rompo tutto, ma... Non si sa mai che c'è qualcosa. Io non so. Buono, le mettono a destra per guardare in basso. Non mi interessa di guardare in basso. Ah, gli allarma! Ok. Tec. Posto. Allora... Ehm... Ci dovrebbe anche essere, mi ricordo, un boss neanche troppo lontano. Forse mi ricordo male, però. Qui possiamo... Arrampicarci. Qui facciamo la stessa cosa. E niente. Ormai mi sa che ci rinuncio. Finché non ho sabbie... E quant'altro... Sa che non mi conviene. Però certe cose... Magari le rompo lo stesso. Allora, se cado crepo... Se è aggrappato, non so come e mi sta anche bene. Punta le mettono a sinistra verso... Ah, guarda! La nuova... Nuova cosa da fare. Ecco qua. Sto fra due muri. Emici per scendere. Eh, grazie. Non potevo aspettare. No, ok. Sono morti entrambi. Eh, mi sa che hanno sbagliato un po' il salto, eh. Perché qui... Sembra quasi che lo... Lo prende appena. Qui... Abbiamo gli spazi. E possiamo anche salire... Molto... Elegantemente. Poi giustamente uno potrebbe dire... Perché non lo fai tu, giustamente? Allora, su, giù. Giù. Io dovrei assassinarti. Ah, ok. Allora, non perdo più tempo nel rompere ste robe. Non lo perdo più. Allora, qui... Vabbè, tanto ci capirò poco e niente comunque. Questo avrei potuto eliminarlo. Oh, forse non devo far nulla. Devo cercare di non farmi vedere. Li eliminiamo. Tec. Allora, porta... C'era una scala. Anzi, forse ce ne erano due. No, ce n'è una sola. E niente. Qui va tutto a fuoco. Ehm... Qui come si farà? Ah, ecco. Qui ci sono loro due. E questo l'avevo visto. Allora. Allora. Ah, ok. Guarda un po'. Solo che da qua mi sta di no, eh. E invece sì. Aspetta che... Si sa mai che... Lo manco. Io mi ricordo che con il timing facevo schifo. Ma che è successo? Corro? Sì. Sì. Ehm... Di qui. E' anche un po' più lento nella corsa. Ok. Ok. Eccolo lì. Dov'è finita la cara ascia con il suo banchetto di fiori e di frutta? Ho i bambini vagabondi, piccole pesti come tutti i ragazzini. Spariti tutti quanti. Sai com'è? C'è una guerra. Questa... Ah no. E' di là. Mi confondo. E... Qui... C'è la sporgenza. Però... Aspetta. Aspietta. Non sono allineato. Ok. Forse sì. No. Andiamo giù. Ok. Adesso incomincio a ingranare. Ah, l'usura della... Della... Dell'arma c'è. E' quella barra azzurra. Non mi cadere. Che poi, una volta che crepi... Non so se è... Che non... Non so se sono io che non trovo il bottone. Il pulsante. Però quando muori non puoi schippare poi il filmato. Sta... Mi pare una cosa strana, eh. Credo di... Credo di essere io che non trovo il pulsante. Ehm... Per esempio io qui ci potrei morire. Tranquillamente. Ma proprio... Qua ci sono delle volte che... Che pensi? Ma sto andando tra la parte... Sto andando indietro e in avanti. Salta verso il muro. Sì, ok. Oli... Oli... Oli...